L'allarme che noi lanciamo come UGL Polizia di Stato del Veneto è rivolto ovviamente a tutti i politici eletti nel nostro Veneto di ogni schieramento politico. Questo governo sta pensando appunto di chiedere persigli di polizia. Ovviamente noi oltre a rivolgerci alla politica locale e provinciale, regionale e nazionale, ci rivolgiamo a tutti i cittadini, inondate le mail del Ministero dell'Interno chiedendo di revocare questa assurda e pericolosa e inutile decisione. Con queste chiusure si rischia veramente in Veneto e in tutte le altre province di perdere delle professionalità, una presa in giro per i moltissimi poliziotti, uomini e donne in divisa, che hanno lavorato per tantissimi anni presso la Polizia Ferroviaria, la Postale e la Stradale. Se questa decisione venisse attuata dal nostro Ministero, il reale pericolo è quello che le specialità della Polizia di Stato, ad esempio la Polfer, la Polizia Postale e la Stradale, subiscano delle vere e proprie emorragie di personale che vedendosi chiudi quegli uffici decideranno eventualmente di andare in altri uffici della Polizia ma che non appartengono probabilmente a quelle specialità. Quindi ci sarà sicuramente una diminuzione delle patuglie della Polizia Stradale sul territorio, una diminuzione della vigilanza sui treni e anche praticamente i reati informatici vedranno sicuramente un aumento perché chiudendo tutte le sezioni della Polizia Postale è chiaro che i pedofili e i truffatori informatici staranno già festeggiando. Noi in termini calcistici in Veneto abbiamo detto che la criminalità vincerà 16 a 0 contro la Polizia di Stato perché a rischio sono ben 16 uffici che sono ovviamente in pericolo chiusura. Chiediamo alla politica locale, provinciale, regionale e nazionale intervenite, fate in modo di bloccare questa scelta che è assurda, pericolosa e dannosa per i cittadini e per gli stessi poliziotti.